Si chiama antisemitismo, che non si è mai interrotto, che non è sempre da secoli e secoli. Tra l'altra c'è l'anonimo della tastiera, che è la cosa più vigliata che si può fare e che arriva da parti le più disparate, mentre la polizia postale cerca di risolvere questo problema dell'anonimato, a volte ha grosse difficoltà anche a scovare questi personaggi. Quelli che pochi, per la verità, si firmano, da un po' di tempo non hanno avuto vita facile perché ho smesso di rispondere col silenzio e adesso vi denuncio. Ma magari è un peccato mio, perché nei prossimi anni si farà qualche passo avanti in questa direzione. Lei è più ottimista, senatrice? No. Bene, so. Registriamo questa nota, mi sembra più necessario. Grazie. 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 Grazie.